buongiorno a tutte e tutti eccoci a questo appuntamento della conferenza nazionale di statistica dedicato anche alle parole non solo ai dati il titolo non solo numeri la scienza bisogno delle parole giuste ne parliamo con tre tre ospiti quest'oggi con tre interviste tre brevi conversazioni ci saranno Donata Columbro, Barbara Gallavotti e Paolo Giordano innanzitutto mi presento velocemente sono Enrico Costa sono un giornalista mi occupo di comunicazione e relazioni con i media all'unistaca fosca di Venezia e faccio parte di una neonata associazione che si chiama Logon e che si occupa che intende promuovere formazione e sensibilizzazione su tematiche scientifiche ma andiamo subito nel vivo con la prima ospite di oggi che è Donata Columbo giornalista cofondatrice di Data Ninja responsabile della Data Ninja School cura la rubrica Data Storie sulla stampa è autrice del libro Ti spiego il dato ti spiego il dato e le chiediamo subito ma a chi lo a chi lo spieghiamo questo dato? Intanto grazie Enrico Costa e grazie Istat per questa occasione ti spiego il dato è nata come rubrica Instagram quindi mi rivolgevo a una community di persone che non sono abituate a confrontarsi con dati numeri statistiche grafici di solito il mondo delle persone che si occupa di queste tematiche parla un po' alla propria nicchia mi interessava uscire da questo ambito e dialogare con le persone cittadine le cittadine che potevano essere incuriositi è nato tutto devo dirlo pre pandemia questo nell'autunno 2019 la mia idea era quella di leggere insieme alla mia community di follower le notizie grafici che trovavamo sui giornali non solo per capirli quindi per capire esattamente come leggerli cosa andare a cercare come confrontare le fonti ma anche incuriosire le persone a che cosa si può raccontare raccogliendo dati anche partendo dal presupposto che i dati non sono solo quello che ci immaginiamo i big data o non si parte necessariamente solo dai fogli di calcolo per raccontare storie con i dati da lì questa rubrica è diventata un appuntamento fisso e con la pandemia le persone hanno iniziato a farmi domande più specifiche ovviamente senza avere la pretesa di avere la conoscenza scientifica su sull'epidemia che stava accadendo abbiamo ho provato sia io con il mio account di instagram che anche quello che facciamo con data ninja ad avvicinare le persone alla lettura di dati e grafici per almeno comprendere quello che ci veniva raccontato sui giornali e dalla comunicazione politica rispetto alla situazione pandemica quindi il libro ancora oggi si rivolge diciamo a alle persone che sono in qualche modo incuriosite dal tema vogliono capirne di più non facciamo non nominiamo la pandemia perché rimane un libro che può essere utilizzato su qualsiasi tema anche sui dati che ci riguardano i dati della nostra vita quotidiana infatti proprio dai dati della vita quotidiana sei partita diciamo nella tua ricerca nel tuo studio nello sviluppo della tua attività attorno ai dati ricordo è un riferimento alla maratona e come seguire appunto il tuo tuo allenamento la tua crescita dal punto di vista anche atletico attraverso delle app eccetera eccetera ti ha fatto ti ha reso più consapevole di come i dati sono veramente dentro la vita di tutti noi ecco il tuo intento è un po quello di fare cultura dei dati giusto e perché ne abbiamo bisogno di questa cultura dei dati il mio intento mi differenza anche un po da da chi fa divulgazione scientifica sia sui canali social che su altri canali come gli aspetti che che parleranno dopo di me perché l'idea che c'è nel fare cultura del dato e nell'avvicinare le persone a questa modalità di non solo comprendere le notizie appunto ma di vedere la propria quotidianità ehm i dati non sono solo quelli che appunto leggiamo rispetto all'attualità le elezioni politiche che sono un altro momento in cui vediamo eh i dati le mappe i grafici prima serata ma noi prendiamo decisioni basate sui dati tutti i giorni eh da dalla dalla calcolo probabilistico eh che che ci fa dire se possiamo dormire ancora al mattino eh aumentare insomma le sveglie prima di alzarci andare a prendere l'autobus eh al decidere a decisioni più complesse come l'acquisto di una casa la valutazione dei prezzi delle distanze magari eh dalla scuola dei figli quindi in realtà o dall'acquisto che facciamo al supermercato i prodotti che troviamo sugli scaffali sono stati messi lì prendendo decisioni basate sui dati ehm diciamo che oggi dire che i dati ci riguardano e cambiano la nostra vita dopo questi due anni è una premessa che non serve più fare perché ormai l'abbiamo capito tutti non succede solo in emergenza ecco e occuparsi di dati come cittadine e cittadine può eh renderci anche eh più consapevoli rispetto a quello che possiamo eh fare nella nostra democrazia sapere come funzionano le decisioni basate sui dati da parte delle amministrazioni pubbliche ci può far interessare eh al richiedere eh che i dati che ci riguardano che riguardano la spesa pubblica eh vengano eh resi pubblici anche in un formato aperto ehm penso a i i dati ehm appunto della sia della sanità ma anche della della spesa degli investimenti che vengono fatti oggi con il PNRR sapere come funziona come funzionano le fonti la pubblicazione dei dati come si naviga anche il portale Istat eh come ci si muove tra le banche dati ehm è dietro queste espressioni di solito da parte delle persone eh c'è una specie di timore reverenziale no non voglio toccare queste cose perché chissà cosa potrebbe succedere se mi avvicino a questo mondo ehm secondo me per molto tempo anche da parte degli esperti e delle esperte eh è stata volutamente mantenuta una distanza no? Ehm dire che le persone qualsiasi persona può avvicinarsi può scaricare un foglio Excel e fare esperimenti sembra una un'eresia in realtà proprio maneggiando anche i dati eh il foglio Excel è l'ultima eh della forse nella scala no di questo maneggiare la cultura dei dati la prima cosa potrebbe essere osservare la propria quotidianità e raccogliere dati anche semplicemente su un pezzo di carta è un po' quello che dice la corrente del data humanismo portata avanti eh una tra tutti da Giorgia Lupi eh anche con il progetto che lei ha creato di Ardeta con Stefani Posavec uno scambio settimanale di racconto della propria quotidianità basata su una raccolta e visualizzazione dei dati eh umanizzare il dato portare la cultura dei dati a tutti i livelli per me vuol dire questo. Ecco ehm diciamo come alert avvertimento eh che fa parte di questo lavoro sulla consapevolezza basta ti chiedo questo basta riportare dei dati per dire la verità e tutta la verità. Ovviamente no eh diciamo che la la classica frase ehm eh portatemi i dati e tutti gli altri avranno le loro opinioni quindi il dato contrastato l'opinione anche chi porta i dati ha le sue opinioni ha la sua politica da portare avanti e un dato solo tra l'altro non basta assolutamente non significa nulla è come dire eh una frase se non ho una fonte se non ho un confronto ehm se non sono in grado anche di capire quello che mi manca eh rispetto alla lettura di quella eh percentuale se non so valutare il dato ehm rapportato a una popolazione eh avere dei numeri o non averli è la stessa cosa e il fatto che oggi i numeri vengano utilizzati oggi eh in realtà non solo oggi è stato anche in in tutti quei contesti politici in cui è molto caldo il dibattito la persona che porta il numero a c'è un numero c'è un dato diventa quasi incontrovertibile in realtà saper leggere quel dato saper farsi le domande giuste mi hai portato un numero solo confrontiamolo ma di che anno è? Dov'è la fonte? Eh ci sono differenze rispetto ad altre regioni ad altri paesi? Che cosa è compreso dentro quel dato? Come è stato calcolato? È un allenamento che bisogna per riprendere la dinamica della della corsa e eh e dell'atletica è un allenamento che bisogna fare quando si vede eh o si sente parlare di un numero però è fondamentale per non cadere della trappola della ehm del rigore appunto che c'è dietro una statistica non c'è nessun rigore se non è dimostrato se non c'è una metodologia e se non sono in grado di andarla a cercare. Poi ci sono diversi livelli ehm ci sarà ci saranno numeri e statistiche grafici che parlano di fenomeni sempre più complessi per cui una volta compreso che in qualche modo quel dato è affidabile magari mi rivolgo a un esperto o un'esperta per interpretarli. Ehm secondo me non si può arrivare a un a un fai da te onnicomprensivo altrimenti avremo la conoscenza di qualsiasi tema no? Dall'economia eh alla medicina. Donata. Donata. Per capire se mi posso fidare bisogna imparare a farle. Chiarissimo. Grazie. Ti voglio portare per qualche minuto ehm su un'altra tematica che per te è molto cara ma che secondo me merita un po' di contesto che è quella del femminismo dei dati. Ecco cosa significa? Come si pratica? È un po' impegnativo come termine. Ti chiederei di raccontarci. In due minuti impegnativissimo. Ok. Ehm allora il femminismo dei dati è stato teorizzato in bellissimo volume che è disponibile anche in open access eh sulla biblioteca sul sito dell'MIT eh da Catherine D'Ignazio e Lauren Klein. Eh il femminismo dei dati si occupa di come funziona il potere eh di come funzionano le relazioni che ci sono oggi nella nostra società eh a partire dalla da come si fa raccolta dati dall'analisi e dalla visualizzazione. Dal mio punto di vista è una unione della dell'umanesimo dei dati di quello di cui parlavo prima eh e dell'usare i dati per non alimentare disuguaglianze e discriminazioni eh ma per capire eh appunto a fondo che dietro alla presentazione la comunicazione la raccolta del dato in qualche modo c'è sempre un interesse. Tra le domande che bisogna farsi eh il data femminism dice chi ha raccolto quel dato eh chi ne beneficia di questa raccolta chi eh ne viene discriminato ne verrà escluso. E queste sono domande importanti da farsi a tutti i livelli da dal censimento eh a a quello alla raccolta dei dati che ne fa un piccolo comune per capire dove andare a ad aumentare l'illuminazione eh pubblica o a mettere una nuova scuola eh e secondo me ci fa capire questo concetto sempre di più che i dati ci riguardano davvero riguardano eh le tasse che paghiamo e dove vanno investiti soldi pubblici anche e eh perché una corporation invece un'azienda decide di investire raccogliere dati eh creare eh software basati appunto su database che alimentano algoritmi e perché decide di non farlo perché ricordiamo che la raccolta dati quando viene fatta eh c'è in qualche modo un interesse da parte di qualcuno perché c'è un grosso investimento di denaro quando non ci sono i dati eh su un fenomeno si parla di eh di data gap e perché non c'è stato un investimento perché è un processo costoso e quindi quando c'è e quando non c'è anche lì scattano tutte altre domande che il femminismo dei dati ci può eh aiutare appunto a elencare quantomeno 30 secondi un messaggio per cittadine e cittadine più più consapevoli e attivi sul fronte dei dati eh essere curiose e curiosi perché è qualcosa assolutamente alla portata di tutte e tutti e pasticciare con i propri dati provare a fare piccoli progetti personali perché da una raccolta dati della vita quotidiana della settimana si imparano tantissime cose leggere tanto non farsi spaventare e ascoltare anche eh brave divulgatrici divulgatori come quelli che stiamo per ascoltare dopo di me oggi. Grazie grazie Donata Columbo Data Ninja School giornalista e autrice di ti spiego il dato passiamo appunto alla divulgazione scientifica lo facciamo con Barbara Galavotti che si definisce giornalista appunto divulgatrice biologa e con una profonda passione per le parole e la letteratura anche nella sua attività spaziato molto sia tra discipline scientifiche tra mezzi di comunicazione formati eh ha scritto le grandi epidemie come difendersi nel 2019 ehm e poi eh ha diciamo eh recentemente conquistato uno spazio di scienza in un contenitore non scientifico un aspetto eh davvero non banale molto particolare molto importante e che voglio sottolineare in di martedì condotto da Giovanni Floris sulla sette. Eh Barbara da diciamo da biologa e divulgatrice ti chiediamo ti direi di accompagnarci alla Piero Angela ma no ti chiedo di accompagnarci alla Galavotti per un momento ad esplorare il complesso ecosistema eh della cultura scientifica come funziona? Intanto grazie grazie davvero è sempre un piacere un onore eh essere con voi. Beh sì a me piace pensare alla cultura un po' come a un ecosistema e alla cultura scientifica in particolare perché gli ecosistemi hanno questa caratteristica di ospitare molte specie diverse di essere sani solo se tutte le specie hanno il loro posto e sono in equilibrio fra loro. Allora se pensiamo alla cultura scientifica pensiamo che eh i grandi alberi sono evidentemente la scuola no? Quello che fa veramente da tessuto di supporto da tutto l'ecosistema. Poi penso agli alberi da frutto che sono la ricerca scientifica in particolare la ricerca di base senza la quale non ci può essere la vera innovazione. E poi ci sono tante nicchie. Ognuna deve essere occupata perché se si cominciano a sottrarre beh poi allora eh tutto diventa più fragile e alla fine collassa e le nicchie sono occupate da diverse media. La televisione, gli eventi pubblici con carattere scientifico, i giornali, i libri e così via. Ma poi tutti gli ecosistemi non possono autosostenersi, hanno bisogno di risorse, luce, acqua e così via. E lì io credo che le risorse siano le risorse economiche che vengono poi decise anche dalla politica. Perché abbiamo quest'idea romantica che eh la cultura non abbia bisogno di nulla, basti la passione per farlo. Evidentemente non è così perché chi fa cultura deve vivere, deve avere gli strumenti per fare cultura e non è mai stato così. Se pensiamo alla grande epoca ellenistica, al grande trionfo anche della scienza in epoca ellenistica, eravamo da partire dal terzo secolo avanti Cristo, beh insomma non sarebbe mai stata possibile se chi aveva in mano il potere all'epoca non avesse deciso di investire su questa cultura. E neanche possiamo sperare di vivere in una specie di deserto culturale e poi fare da turisti negli ambienti scientifici creati dagli altri. Perché l'abbiamo visto, la ricerca, la scienza crea delle cose, dei beni che sono necessari alla società e non si può sperare di attingere a quelli ai quali, alla cui creazione non si è partecipato. L'abbiamo visto con i vaccini, gli Stati Uniti hanno investito qualcosa tipo 18 miliardi di euro nel loro sviluppo, l'Europa ha investito molto meno. Il risultato è stato che quando c'è stato veramente bisogno di avere subito vaccini, si è creata una competizione internazionale, l'Europa era probabilmente il migliore acquirente possibile, ma comunque ha dovuto aspettare che chi aveva partecipato di più alla creazione di quel bene ne godesse per primo i frutti. Ecco, entriamo nella comunicazione, direi nel public engagement, nel coinvolgimento del pubblico. Come cambia in formati, in mezzi così diversi come quelli della televisione, del faccia a faccia, degli eventi, dei musei? Cambia radicalmente, infatti la cosa che io trovo fantastica di chi fa il nostro lavoro, ma non sceglie di specializzarsi su nessuno strumento, è di poter trarre il meglio da ciascuno. Per esempio la televisione, strumento che io evidentemente amo moltissimo, ha un vantaggio enorme che è quello di poter raggiungere un numero enorme di persone, milioni, se pensiamo a una televisione generalista in prima serata, e di emozionarle profondamente, perché le immagini hanno questo straordinario potere di emozionare e di portare ovviamente chi guarda in ambienti che altrimenti difficilmente potrebbe visitare, che vanno dagli ambienti lontani fino per esempio ai laboratori di ricerca del CERN, un laboratorio di sicurezza dove si fanno ricerche biomediche e così via. E questo è un potere straordinario. D'altro canto noi sappiamo che di fronte allo schermo purtroppo ci si distrae facilmente, un attimo passa il gatto, si va a bere, una cosa qualsiasi e si rischia di perdere qualcosa che viene detto. Quindi chi lavora per la televisione di questo deve tener conto, deve costruire un discorso fatto in maniera tale che alcune cose possano perdersi, ma il filo possa essere riallacciato. È sempre possibile con i mezzi di adesso tipo Netflix in teoria tornare indietro e rivedere, ma questa cosa non viene fatta e quindi quando costruiamo un discorso televisivo dobbiamo tenere conto che alcune parti possono essere perse. L'altro punto di debolezza sta proprio nelle immagini. Il punto di forza diventa anche punto di debolezza perché quando le immagini non ci sono di quella cosa in televisione non si può parlare. E qui questa sembra una osservazione banale, ma è origine di numerevole discussioni fra chi fa il mio lavoro e chi fa ricerca che magari propone dei temi fantastici, gli abissi oceanici, dei temi bellissimi di cui non è possibile parlare a meno di non far ricorso alle animazioni, ma le animazioni purtroppo hanno un margine di utilizzo stretto a meno di non investire cifre veramente molto alte. Per fortuna tutto quello che non può essere raccontato in televisione può essere raccontato con altri mezzi. I libri è chiaro che non possono competere con la televisione come quantità di pubblico raggiunto, però permettono a chi scrive di portare il lettore in stanze parallele come in un castello antico, aprire porte, chiuderne altre e danno un enorme potere di approfondimento che per esempio non hanno gli articoli sui giornali, ma gli articoli sui giornali possono essere puntuali, possono essere taglienti, possono andare dritti al punto, lasciare un'impressione nel lettore, può cogliere qualcosa che stimola a pensare. Gli uffici stampa, gli uffici stampa hanno un ruolo importantissimo, io sono stata responsabile dell'ufficio stampa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, quindi è un tipo di comunicazione in cui sono molto affezionata perché permette di unire mondi diversi, il mondo dei ricercatori con quello del pubblico, con quello dei media e così via. Hanno il problema, molto più all'estero che in Italia, devo dire, di non essere tenuti nella giusta considerazione spesso dagli enti stessi che ne richiedono la presenza, per cui vengono considerate una struttura subalterna, mentre io credo che debbano avere una ampia libertà di decidere le strategie di comunicazione. I musei, i musei e i science center, i science center sono quei musei scientifici dove non si espongono gli oggetti, ma si espongono cose su cui si possono fare dei piccoli esperimenti, possono metterci le mani sopra, vengono proprio chiamati hands on tecnicamente. Allora, di nuovo, grandi costi, un numero di visitatori sicuramente non paragonabile con quello degli spettatori di una prima serata televisiva, ma soprattutto quando sono anche dotati di laboratori dove fare vere e proprie esperienze, un potere straordinario di permettere alle persone di capire le cose facendole e quindi di lasciare un'impronta profonda. Come lasciano un'impronta profonda gli incontri diretti con i ricercatori che ci sono certe volte in certi eventi in cui si possono fare domande e dialogare. Allora qui ritorna il tema dell'ecosistema. È chiaro che una cultura è sana quando a disposizione della società ci sono tutti questi strumenti che vivono parallelamente e si rafforzano. Se si comincia a sottrarne qualcuno, perché qualcuno non funziona, qualcuno non è finanziato, su qualcun altro non c'è abbastanza pubblicità e così via, tutto si indebolisce. Ti ringrazio per questa sottolineatura anche sul ruolo dell'ufficio stampa, non solo perché me ne occupo, ma perché credo che sia effettivamente a volte trascurato dalle istituzioni stesse. È un'interfaccia preziosa tra le istituzioni, i ricercatori e l'esterno, anche in ottica credo di formazione anche dei ricercatori, di avvicinamento, sensibilizzazione alla comunicazione. Saltiamo su un'altra tematica. però legata a tutto quanto, perché forse è un qualcosa su cui si regge un po' tutto quanto, ed è la fiducia. Che ruolo ha la fiducia nella divulgazione? Io credo molto scarso in realtà, perché se intendiamo la divulgazione come mezzo per costruire fiducia bisogna stare un po' attenti, perché una cosa è la fiducia e una cosa è la comprensione. Allora ci siamo ai suoi albori, soprattutto nel Regno Unito, ci si è convinti in qualche modo che il compito della divulgazione fosse di istruire il pubblico, così che i cittadini anzi, nell'ipotesi che i cittadini non sapessero abbastanza di quello che succedeva nel mondo scientifico e quindi una volta che glielo si fosse spiegato si sarebbe ottenuto una società di fan della ricerca. Questa è un'idea che è naufragata, perché fiducia e conoscenza non sono necessariamente correlate. Conosciamo moltissime persone totalmente illetterate, che non si sognerebbero mai di mettere in dubbio il parere di un medico o di uno scienziato, e persone con un livello culturale altissimo che invece hanno, per motivi che non sono totalmente razionali, dei dubbi. Ma la vediamo sempre anche nello stesso mondo scientifico. Io vedo dei matematici che hanno dei dubbi sull'efficacia dei vaccini e vedo delle persone, dei fisici, di altri campi, che hanno dei dubbi sui risultati netti di chi studia i cambiamenti climatici. Quindi fiducia non è totalmente razionale. E quindi io credo che il compito della divulgazione scientifica non può far altro che parlare a chi ha un interesse per quello che viene raccontato e fare il meglio appunto per cercare di rendere chiaro quello che avviene nel mondo della ricerca, tenendo presente che il compito della divulgazione scientifica non è insegnare, proprio perché mentre la scuola ci si deve andare e ci vanno tutti, la divulgazione, la comunicazione viene cercata e deve essere anche di intrattenimento. E a me piace l'idea di Pietro Greco, che è stato uno dei grandi padri della divulgazione scientifica in Italia, purtroppo l'abbiamo perso recentemente, che infatti vedeva la comunicazione come un mezzo per mettere in contatto diversi protagonisti della società, appunto scienziati, elettori, politici, cittadini e così via, e quindi per creare una rete, che però è una rete che fa leva sulla razionalità, non si possono convincere le persone con argomenti razionali se ci sono preoccupazioni che non sono razionali. Ecco, nella pandemia abbiamo visto la scienza e gli scienziati avere una straordinaria, direi, pervasiva visibilità. Dall'altra parte, autorevoli indagini, penso a Ipsos e molti altri, Ipsos Mori, ci hanno sempre confortato sul fatto che gli scienziati godano di un'altra fiducia nel pubblico, quindi evidentemente è anche giusto e fondamentale che ci sia questa esposizione quando è necessario. Ma non possiamo fare a meno di comunicatori e giornalisti specializzati, dei mediatori. Perché abbiamo bisogno di questi mediatori? Qual è il loro ruolo, secondo te? Ma per lo stesso motivo per cui non possiamo fare a meno dei critici teatrali per parlare di teatro, non ci bastano solo gli autori e gli attori, non possiamo fare a meno dei giornalisti politici per parlare di politica, non possiamo ascoltare solo i capi di partito, oppure abbiamo bisogno dei giornalisti economici per parlare di economia e non solo gli economisti, perché serve una posizione esterna. A me piace molto il paragone con il calcio, no? Chiunque ami il calcio è molto interessato a sentire il parere dei giocatori, degli allenatori, di chi la partita veramente la gioca. Però c'è anche bisogno di sentire l'opinione di chi conosce molto bene le regole del gioco, di chi ama profondamente il gioco, ma di chi non è parte di nessuna squadra e non prende le parti di nessuna squadra e segue la partita seduto dalla parte del pubblico. E quelli sono i giornalisti sportivi. Nella comunicazione scientifica avviene la stessa cosa. E l'abbiamo visto abbastanza durante questa epidemia. In questa epidemia è successo questa cosa molto atipica, che una parte del dibattito scientifico, che normalmente si svolge in ambienti riservati, si è trasferita davanti alle telecamere sotto gli occhi di tutti. E il pubblico ha assistito al fatto che gli scienziati, d'accordo su una serie di concetti di base assodati che riguardavano il progredire dell'epidemia e del virus, discutevano anche, esprimendo pareri diversi, su questioni che non erano ancora ben definite. Però non sapendo, ovviamente, molto, essendo abituati a assistere al dibattito scientifico, molti sono rimasti disorientati. Hanno avuto l'impressione che ci fosse nel mondo scientifico un disaccordo che non c'era, o comunque sicuramente non c'era nel modo e nel livello in cui è stato percepito. E quello è la dimostrazione esatta del perché serve una figura terza che possa aiutare il pubblico a orientarsi nel mondo di quello che avviene nella ricerca, non essendone coinvolto direttamente. Grazie, grazie Barbara Galavotti per questo intervento, per queste riflessioni e la salutiamo e la ringraziamo ancora e passiamo all'ultimo ospite di queste conversazioni di questa mattina, di questo slot di conversazioni, Paolo Giordano, fisico, scrittore, che ci ha aiutato un po' a ragionare, ci ha accompagnato nei momenti critici di questa pandemia, con lucidissime riflessioni pubblicate soprattutto su Corriere della Sera. e con lui vorrei proporre di esplorare quattro concetti, quattro parole, quattro espressioni legate alla pandemia, ma forse non solo. Buongiorno Paolo Giordano. Partirei dal 100%, da questo concetto. La pandemia ci ha un po' allenati forse all'incertezza, però c'è un riferimento implicito a cui tutti facciamo riferimento, il 100% rispetto al livello di protezione, alla percentuale di vaccinati e così via. Però quali sono, secondo te, i 100% che contano? Forse ne trascuriamo anche qualcuno. Intanto grazie dell'invito. Buongiorno Enrico, buongiorno Barbara Gallavotti, buongiorno Donata Columbro. Abbiamo avuto un problema, e ancora ce l'abbiamo, con il pensiero statistico nel paese. Non è un problema solo nostro, però è emerso con una certa chiarezza, nel senso che la pandemia si muove, si capisce tramite concetti prevalentemente della statistica, e noi scopriamo qualcosa che in realtà, soprattutto gli psicologi o chi si occupa di percezione del rischio, sapeva già molto bene, cioè che non siamo abituati a pensare in modo statistico in realtà. Il 100% che tu menzioni a me fa venire in mente quello che è stato un problema costante che poi si è mutato in varie forme in questi due anni, che è l'aver contrapposto spesso a un pensiero statistico, quindi più complesso, più articolato, un pensiero che io ho definito binario. Binario in che senso? Nel senso che fin proprio dagli inizi, dalle prime settimane, vi ricordate c'era questa distinzione, no? Sì è grave, no non è grave. Sì è pericoloso, no non è pericoloso, no? E questa specie di distinzione binaria, sì, no, acceso, spento, è quello che un po' si è, ha continuato a prodursi nelle varie fasi della pandemia, per arrivare ovviamente ai vaccini, pensa a tutto il sottofondo di polemica di esitazione vaccinale, no? O addirittura di aperto contrasto all'utilizzo dei vaccini. Qual è una delle teorie che vengono portate in campo più spesso? Ah, ma i vaccini non proteggono dall'infezione. Allora, questo è un tipico modo binario di pensare, no? Non è vero dire che i vaccini non proteggono dall'infezione, non è vero dire che i vaccini ti proteggono completamente dall'infezione, che sono le nostre, diciamo, opzioni 0-1. I vaccini ti proteggono dall'infezione in una certa percentuale, che è variabile nel tempo, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, proprio all'inizio, e qui torno al 100%, io mi ricordo i primi giorni spaventosi di pandemia, no? Quando sapevamo davvero poco, eravamo solo i dati della Cina, e da quei dati della Cina all'incirca si stimava che il 10% degli infettati finissero in forme gravi, addirittura in ospedalizzazioni, e un 2%, sembrava in quel momento, potesse morire di Covid. Poi queste percentuali sono cambiate, anche lì sono state spacchettate nelle varietà. In quel momento avevamo pochi dati, i rozzi, e questo era quello che sembrava. È stato molto strano, come in quel momento molte persone a cui uno comunicava questo tipo di percentuali, le avvertissero come percentuali basse, senza pensare a quale fosse il 100% in quel momento per noi. Il 100% della popolazione in quel momento era la popolazione mondiale, per quello che ne sapevamo, cioè 7 miliardi e mezzo. Allora, fare quelle percentuali su un 100% di quel tipo voleva dire uno scenario, per fortuna non quello a cui siamo andati incontro, ma insomma siamo andati incontro comunque a uno scenario abbastanza cupo. E questo modo di, come dire, non riuscire a stare nelle zone grigie fa proprio parte di noi e purtroppo viene molto incentivato e incoraggiato anche ovviamente da un certo tipo di comunicazione mediatica, di cui un po' ho sentito che parlavate anche prima. Penso alla scuola. La scuola è stato un caso eclatante in questo senso. Pensa, Enrico, a quanto è stato portato avanti lo slogan «A scuola non ci si contagia, le scuole sono sicure». Uno slogan che non ha assolutamente senso. Non aveva senso un anno fa, non ha senso adesso. Che cosa vuol dire «A scuola non ci si contagia»? Possiamo dire quanto ci si contagia a scuola, possiamo stimarlo ed è difficilissimo, ma dire «A scuola non ci si contagia» vuol dire in fondo fare leva su questo pensiero binario e dire «sì, no». La scuola è un luogo sicuro, che è una frase che non ha assolutamente ragione di essere se non finalizzata a un certo tipo di discorso. Allora, da questa logica binaria, dal passare da quello a delle percentuali, a una quantificazione, a delle stime, continuiamo a fare molta fatica. Tu facevi riferimento in un articolo anche al 100% della nostra vita sociale, che fa parte ovviamente di questo gioco. Sì, un altro che è un discorso che io ho sempre mal tollerato, non abbiamo più la libertà, torniamo a avere la libertà. Non si può ragionare così, ma secondo me non si può ragionare così normalmente, ma a maggior ragione in mezzo a una pandemia non è proprio concesso, non ci è concesso di ragionare così. Non siamo completamente liberi, ma non siamo neanche completamente vincolati. Abbiamo avuto dei momenti di maggiori o minori restrizioni, ma questo non vuol dire essere o non essere liberi. Vuol dire sapersi muovere dentro un perimetro variabile di agibilità che purtroppo è dettato anche da una causa esterna in questo caso. E c'è una parola che è emersa, che è il waning, se lo conosco correttamente, una parola inglese che tu dici rappresenta un po' il dato migliore che abbiamo in questo momento. Cos'è? Perché è così importante avere a che fare, comprendere cosa c'è dietro questo concetto? D'altro è uno dei concetti con cui ci stiamo misurando in queste ultime settimane. Come accennavo prima, l'idea che anche la protezione dei vaccini, soprattutto la protezione per ora riguardo alla possibilità di infettarsi, non la protezione rispetto alle forme graviche, dai dati che abbiamo finora rimane elevata anche a mesi di distanza. Quella rispetto all'infezione, ormai i dati sono abbastanza solidi, sappiamo che a 5-6 mesi dall'infezione, scusi, a 5-6 mesi dalla seconda dose di vaccino, la protezione per l'infezione cala in modo significativo. Anche calare in modo significativo non vuol dire che sia zera. Invece un po' il messaggio che è arrivato fuori in questa carica comunicativa spesso è stato che la protezione un po' scompare, invece diminuisce e quindi è necessario fare i richiami, è necessario farli in fretta, farli alla maggior parte della popolazione a cui si possono fare. Di nuovo questo ci dà l'idea di come sia complesso e faticoso dal punto di vista psicologico vivere un po' sulle curve, cioè non vivere nei valori assoluti, di nuovo negli uno o negli zero, ma vivere in delle curve che hanno delle pendenze come anche la protezione, in questo caso dei vaccini, e saper stare dentro quelle curve. Curve che portano ancora un'incertezza in più dentro di loro, cioè un altro argomento che è un argomento facile di protesta, però che non ha veramente molto significato, è quello di chi dice, adesso però ci parlate dei richiami, ma ce lo dovevate dire prima, prima non l'avevate detto, quindi non ne sapete niente neanche voi. E c'è anche qui, c'è un universo tra il sapere e il non sapere qualcosa, c'è tutto il tempo che serve innanzitutto per acquisire, Donata prima parlava molto dei dati, e qua c'è una necessità specifica di acquisirli i dati, finché non è passato un sufficiente tempo, noi quei dati nella popolazione reale non li abbiamo, e quindi quella verità semplicemente non è stata dischiusa ai nostri occhi. Viviamo da due anni dentro questo disvelamento progressivo delle evidenze e delle verità, che forse per chi si occupa di ricerche e scienze in un certo modo è un'abitudine abbastanza comune, è più attrezzato per stare dentro questa incertezza, ma è molto difficile comunicarla fuori ed è molto difficile anche in un certo senso farla accettare. Pensa a quello che sta accadendo in questi giorni sulla variante Omicron, questo è proprio molto evidente nell'ultima settimana. Emerge questa variante, viene trovata, capiamo che è già diffusa, ci sono dei dati scarni molto preliminari che hanno degli aspetti obiettivamente preoccupanti, forse trasmissibilità, forse evasione vaccinale, ma in realtà tutto questo noi ancora non siamo tecnicamente nella fase per poter dire nulla di certo e specifico, eppure già io sento diffondersi una specie di nuovo pensiero binario su questo. C'è già una scuola che dice, ah, ma è una variante lieve, perché ci si attacca a pochi dati e poche comunicazioni fatte su un campione molto ridotto e specifico, e c'è chi invece spinge già sull'ipotesi, come dire, catastrofista. In realtà siamo in una zona di attesa, e l'attesa in un caso come questo, in una situazione come questa, è faticosa, è difficile, anche perché impatta su delle scelte molto banali della nostra vita. Cioè fra un po' ci saranno le vacanze di Natale. Come si conciliano i miei progetti delle vacanze di Natale con Omicron? Non lo so. Odestamente io oggi devo solo rispondere, non lo so, devo aspettare 10, 20, forse 30 giorni per capire quale sarà la situazione veramente. Quindi volevo toccare con te ancora due aspetti. Uno è emerso recentemente da una tua considerazione, credo in tv, riguarda le strategie comunicative, la persuasione, che non può essere efficace se è affidata solo agli istituzioni, in un momento in cui le persone si affidano o non si affidano a quello che dice il vicino di casa, il medico familiare. C'è stato a me uno degli aspetti comunicativi che hanno più colpito, soprattutto questo, devo dire, durante la prima ondata, quando proprio eravamo un po' separati gli uni dagli altri e quindi ci connettevamo attraverso i mezzi di comunicazione. Una cosa che mi ha molto colpito e un po' spaventato in quel momento è stato che gran parte dell'informazione, ma soprattutto gran parte della disinformazione, che non sono solo le fake news, ma la disinformazione è una galassia a sua volta, è fatta di fake news, ma è fatta anche di informazioni parziali, è fatta di informazioni che vengono leggermente distorte, rese tendenziose, è fatta di semplice confusione, magari anche con le migliori intenzioni. Tutto questo però in una situazione di emergenza sanitaria, la disinformazione ha degli effetti immediati e molto pericolosi poi nei comportamenti delle persone. Mi ricordo che in quei mesi molta di questa disinformazione viaggiava su WhatsApp, che è stata un po' una novità, perché tutti noi che ci occupiamo un po' di comunicazione scientifica in vari modi, abbiamo sempre avuto un po' come i timori per noi arrivavano più dai social, come Facebook, come Twitter, dove è vero che viviamo tutti in bolle, in piccoli ecosistemi chiusi, come diceva Barbara Gallavotti prima, purtroppo i nostri ecosistemi sono molto chiusi a livello informativo, ma un minimo spazio di contraddittorio esiste in quei tipi di ecosistemi. Non esiste su WhatsApp, cioè WhatsApp è un metodo di comunicazione personale, da persona a persona, e che soprattutto coinvolge la tua rubrica, quindi persone a cui tu sei portato in modo naturale, istintivo a dare maggiore credibilità, perché le conosci in qualche modo, e quindi è una disinformazione che è stata molto pervasiva in quella fase. Come si risponde a questa disinformazione? Barbara Gallavotti diceva molte cose giuste, ci sono molti player nella comunicazione scientifica, che devono agire tutti. Ma qui c'è bisogno anche di un surplus di vicinanza, è come se soprattutto adesso, per portare veramente a termine la campagna vaccinale, ora che si parla di vaccinazioni dei bambini, che sono un tema super sensibile per tutti, beh, comincia forse a diventare necessario che a spiegare le statistiche, a spiegare cos'è un rapporto costi-benefici, eccetera, eccetera, siano persone altrettanto vicine. Quindi abbiamo bisogno di una capillarità, abbiamo bisogno di nuovo della rete, dei pediatri, dei medici, di famiglia meno informati, di tutta una serie, una prossimità dell'informazione a cui la televisione, i giornali non possono sopperire, perché c'è bisogno di contrastare la prossimità con la prossimità. E questo purtroppo non mi sembra che sia stato messo in campo in modo particolarmente massiccio o strutturato. Un unico punto che purtroppo dobbiamo affrontare in modo telegrafico, ma ritengo sia importante citarlo, penso che un po' tutti abbiamo sentito l'affacciarsi del termine post-Covid da qualche parte nelle ultime settimane, perlomeno prima della nuova variante. Esiste un dopo? Al momento il dopo non è in vista, soprattutto in questi ultimi dieci giorni mi sembra che siamo proprio in un durante, ma questo è stato, se abbiamo pensato frettolosamente a un dopo, è stato davvero un errore di valutazione shock, questo è stato detto da tanti in varie fasi, quindi non ci sono molti attenuanti, perché è stato detto fin dall'inizio che la pandemia finisce nel momento in cui finisce per tutti, e non è una frase retorica, una frase buonista, è una frase, come dire, epidemiologica, è una frase che ha dei connotati molto specifici e scientifici, e stiamo per vederlo di nuovo, non ci fossero bastate le altre fasi, quindi al momento dovremmo imparare a vivere in questo durante. io in uno degli articoli ho parlato di interregno, questo per me è un lungo interregno, fra, sì, una civiltà prima in cui non avevamo questo virus e questa pandemia, e un tempo invece piuttosto protratto in cui questa pandemia esiste, si trasforma, si dirama in altro, e che ci porterà lentamente a una transizione di qualche tipo, ma al momento dobbiamo ancora trovare il modo migliore per starci dentro. Grazie, grazie davvero a Paolo Giordano, grazie agli altri nostri ospiti, a Donato Columbro, a Barbara Galavotti, all'Istat, che ha reso possibile tutto questo, e a tutto il team che lavora dietro le quinte di questa bellissima conferenza, e di questo evento in particolare, a voi che ci avete seguiti, e a quanti riascolteranno questo video, queste parole in futuro, quindi a tutte e a tutti, arrivederci, grazie.